bella vecchia, bentornati qui sul canale di grana se dopo una sconfitta o una vittoria del riuscito Beauty Bulldog Drapani porca puttana, porca bitch, porca ma dai ma dai Messi, Neymar ovviamente non avrei soldi per l'animo, se non l'icesteri, sta meglio Neymar va bene e niente veniamo dalla bella vittoria convincente quindi sicuramente oggi ci sarà una bella sconfitta convincente perché anche le sconfitte convincono vincono e convincono siamo ovviamente a 3 punti con 2 partite e ora abbiamo need to win ho fatto il video così in nuovo ha fatto pause chicchi 25 io ho pushato spingi pushato riprendi io ho pushato la linea comunque è difficilissimo fare la prova non ci riesci, è difficile provate a fare una frase tipo mezzo italiano e mezzo inglese queste tutte e due noi siamo here to make a video vedete io sono tutto in inglese vabbè tu make a video è uguale da video noi stiamo make a video noi stiamo make a video giochiamo the opponent ha ripreso le pratiche ieri potremmo possiamo play oh capito chi giochiamo bene che voglio subito sorpassa sta stagione merda e lo fai e lo fai devo cazzo fa quell'altro non eri partito ero eri continua no non male che cosa stava là no più che altro quest'altro lo teneva in gioco non meno male che stava là no guarda che se un video che soltanto poi andavano avanti vabbè capito come andava a finire ma che no ma tu sei un coglione sei ma carica dopo non ci posso credere ma carica dopo ma che cazzo fai ma se stanno a giocare la partita su 1-0 ma fai stai cazzati volevo troppo fallo ti giuro mi volevo mettere il video dei ron basta non lo faccio non te lo preoccupare non è una partita ma ti cazzi incazzi si fa skill vabbè ma questa qua era per cazzeggia ma cazzeggia cosa sono 0-0 la prima volta che lo faccio lo rifaccio ero molto tentato guarda ma che sto spavendo se non è tanto male ai al piede ero un ballo quello era una di FF mi sono tornata la caglia quindi mi ballo solo con la gamba qua un quadrato 1-0 passa dietro ah passa sono sbagliato tira perchè di testa? ma che hai ritardato? perchè a quello c'ha c'ha una cosa un po' diciamo una sindrome di inferiorità e quindi ti sapete che ho capito ma tra l'altro era pure altezza piede cioè si è dovuto piegare a 90 per più andate di testa là 1-2 magnifico incredibile Beams la palavra guerra 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 si gira dentro al tiro fai con il tessi shot dai dai come li fa? io sono pragmatico baffo io mi chiamo Frank Underwood e se quando devi tirare con il QT fa altri 5 dribbling tessati bene con quel tiro guardi che si perdiamo io non so tu ti mandavo ah no 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 c'è di posto c'è di posto c'è di posto fai un 4-0 cioè vabbè faccio il 4-0 con quel tiro dai dai ooooh 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 ma tu cazzo la tirata vabbè con ahahahahahahaha è credibile oh ecco no è bene che Marco si senti là non si sente sul microfono ma ci sta facendo l'affa va a olo inição fa loiddetto ma Lucaorum forte non vuoi Notice un Mostro tale tenebbere aah ahahahHAHAhee ahahah ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah non tanzantati che è colpa mia eh per favore potevamo vissarti 3 a 2 eh eh potevamo vissarti 4 a 2 se Codini mi avesse cagato per tiro cioè ma che C****O ma FANNCUNO e ti vinci da solo le partite mamma mia zitto che c***o che c***o ah pesato no No, no Porca puttana però che palle sta cosa Non è possibile Non è possibile Cioè che ha dato ritiro? Sì, un altro ritiro questo sarà Ora vediamo la prossima partita Eeeh, ecco Cioè già quella prima Ma pure questa Due Purtroppo andiamo avanti così da tre episodi Con tutte le partite che ci scommette Ah è vero, questa è ancora al sessantesimo Eccoci qua, pace Amore, bella vecchia Grazie, siamo tornati Episodio La seconda Perché il laggio Che coglioni O c'è la disconnessione O la gare La bella è che non è colpa mia perché c'è la connessione Una delle connessioni migliori d'Italia Qua praticamente c'è, mi arriva piena Che sta Chi è sto mostro Cioè la capola mente risulta Vai Vai Ole Ole Dai Ah Davanti gli da pure l'autopoda Capito? Non c'è Non sono bastanti Che cazzo Subito un piedi stamattina No Ah 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 Mannaggia Già sopra il iv Vabbè 38 nervi per palo Moltaggi Two Oddio Boom Oh 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 o e vai passano non ti usi mai mai ma non è giusto perchè non riescono a fonti lo fatto bene giocato giocato si però ne parlo del culo sta cosa gioco giremo non ci lo ha fatto bene credibile grande il datore oh no 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 non ci posso dire ma che cazzo non ci posso dire che ne ha fatto dai ma che ha fatto c'è se hai fatto l'una scala poi ha detto ma si andiamo in alto e' andata a chi si manca la parola non era gole non andava fuori ma che non è 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 ovviamente si è buttato cioè ovviamente si è buttato sempre a destra però mi sono buttato però mi sono buttato si è mostrato oh la calore di posi guarda guarda e' rimango in aria in aria dai no no vabbè dai ma insomma questa cosa questa è la cosa 90% delle volte vabbè questa è un 10% per l'ora ancora sto che è merda arriva un posto boom no no c'è segreti perchè devo avvicinare kyle perchè hai visto tutto tuo avete che che kyle seria che cazzo vabbè che cazzo finalmente poi ho rischiato pure fuori gioco no fuori gioco no era fuori gioco ti interessa quello che fa fuori gioco è vero è vero è vero è vero è vero si vede che è novantesimo si occhio che mi rientra no 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 porco 2 no però porca puttana si è visto da come era partito che entrava quella palla oh oh proprio ci stanno i binari tutto sto gioco oh oh si è visto mannaggia la miseria oh dai ma che cazzo fischi ma che cazzo fischi vabbè vi vedete nel prossimo episodio che bella merda mamma mia ogni volta o il prossimo episodio o il prossimo video o il prossimo partita si vediamo alla prossima partita bella